Dai che questa è una vittoria facile Dai e dai e It was at this moment Jackson knew He fucked up Williams per Pereira Pereira per Saka ancora Pereira 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 il filtrante Non va Joe Hart Sta rage quitando Sta rage quitando Perché ci mette così tanto No No Stavo vincendo tra zero Porca puttana madonna A sbrega fioi Qua è il masseo Oggi siamo su FIFA 17 Perché voglio cominciare con voi Il road to division one Blasphemy edition Andremo ad affrontare questa scalata Verso la divisione uno con una squadra Ragazzi Entriamo Il scorso Ogni episodio andremo ad affrontare due partite Quindi io direi subito di cominciare con la prima Prima avversario di giornata Una BPL piuttosto buona Rashford Wilfred Boni Daliali Sigurso Danny Drinkwater Prega per noi Sacco de Bouchy Una bella BPL Andiamo Ilicic Il filtrante per Bacca Che le vai uno contro uno Bacca Vai uno contro uno Porco di Calcio d'angolo Attenzione il cross Per Miranda arriva Belluna Fuga Come un fungo Da sottoterra E BAM La mette dentro Miranda Subito Miranda 1-0 Perisic Perisic Attenzione Il cross Il cross 3-0 3-0 Andiamo E ci portiamo a casa Sti cazzo Tre punti Di merda Bacca Rimessa con le mani Perisic De Rossi Per Carlos Bacca Carlos Bacca Vede che Andre Vigno Che ha smarcato Andre Vigno Il portiere Fa la stronzata Il portiere Ha fatto la stronzata Sì Carlos Bacca Il 4-0 E il portiere Vuto 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 cari Il range quit Il range quit Range quit Primi tre punti Li portiamo a casa Con un 4-0 Formidabile BPL 84 in generale Marshall Loasser Emi Mkhitaryan Matip William Aaron Ramsey Attenzione Toccata di palle Perché Herrera Cheap hop FC Cheap hop Quella per fare il te Come si chiama in italiano La tegliera Tegliera Ma che cazzo Ce ne sbora noi Andiamo Ancora Loasser Emi Loasser Emi L'Emi era in passa Su Marshall Marshall Attenzione State attenti La difesa Dov'è La difesa Dove cazzo è Porco di Che cazzo ti dà Abita E stronzo Ma dove cazzo è Coulibaly Dove cazzo è Miranda Che è quello Alexandro Vaffanculo Vaffanculo Porco di Adesso lo glitchiamo Sto calcio d'angolo Attenzione Ilicic Il cross al centro Per Bacca L'ho detto L'ho detto E 1-1 Volevi vincere Stronzo Ma no Te lo annulla Bacca Te lo annulla Bacca 1-1 E andiamo a vincere La staccazzo di Parc Calcio d'angolo Lo glitchiamo Anche questo Vieni qua Vieni qua Ilicic Vieni qua Ilicic Scartalo Fa il cross Attenzione De Rossi L'ha rispinta L'ha rispinta Sì Sì Ve lo cazzo Adesso Iguain Il contorone Il pipita Tire spinta Gliela messa nel culo Il pipita 2-1 Andiamo Fine primo tempo ragazzi Fine primo tempo Abbiamo fatto un botto di tiri 14-8 in porta Andiamo subito con il secondo Via Veloci Scattanti Attenzione Iguain Intercetta Ilicic Attenzione Iguain In the goal Cos'è successo Cos'è vuoi Espulsione Cosa cazzo è successo Espulsione Quindi è rigore in teoria Cazzo di rigore Va bene uguale Vai Gonzalone Concentrazione al massimo Le va butto a sinistra BAAAAAA IL CONZALONE PIPITONE Iguainone Dio porcarone Ci porta sul 3-1 Ci siamo Ci siamo Eh Volevi vincere Pezzo di merda No 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 3-1 Stronzo Infiltrante Per Iguain Iguain è l'uno contro uno della vita Igua, igua, il pipitone IL PIPITONE Dopo due secondi da rigore Si caccia La doppietta il pipitone A noi tripletta Il pipitone iguainone Porco di... La palla è per Ilicic Iguain Iguain La respinta Sbaglia, sbaglia E' un gol Il pipita Un minuto, è passato neanche un minuto Un altro gol Quanto è forte il pipita Vai bacca, baccarone Per Iguain 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 E' GONZALO IGUAIN Porca madre Quanti gol fa sto uomo E' incredibile Il filtrante per bacca Bacca il contropiede Da solo uno contro uno Esce il portiere Pallonetto Te faccio il cucchiaio Te piace il cucchiaio Bacca te l'ha messo nel culo E ti ha purgato di nuovo Ogni partita Ci caccia Il gol prezioso Come un diamante Uscito dal culo Di un... Perisic La palla è per bacca Di tacco Per Ilicic Attenzione Ancora bacca 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 Siamo tre contro due Siamo tre contro due La focaccina E IGUAIN Che dire ragazzi Per questo video è tutto Lasciate un like Iscrivetevi E noi ci becchiamo Alla prossima Ignorantata